Ma attenzione perché l'Ostiamare vuole il poker, atterrato se non sbaglio Plini ed è calcio di rigore per l'Ostiamare, intervento da dietro del difensore Eretino. Rigore per l'Ostiamare che ora davvero può dilagare. Ma attenzione perché c'è un gesto davvero graditissimo e applaudito da tutta la tribuna del Vigor Sporting Center e non solo, davvero da far vedere e rivedere. Il numero 13 Pietro Azzinari è andato a dire all'arbitro, il difensore ha preso il pallone, non è il rigore e allora l'arbitro ha ringraziato l'attaccante Bianco Viola e ha concesso solo il corner. Mi è venuto più che altro, mi è venuto distinto. Ho visto il mal di cadere, ho visto l'avversario che prima di toccare a me ha toccato per tutto il pallone, in quel caso il fallo non dovrebbe essere dato. Poi ho visto l'arbitro che ha preso il fischietto e ha indicato il rigore all'assomma a quel punto distinto, ho detto subito no, guardi una rigore non va fischiata.